Ben ritrovati da Andrea Lazzara per Arpal, l'anticiclone che ci ha protetto nei giorni scorsi sta accedendo parzialmente, lo vediamo anche dalla nubosità presente sul mare, nello scatto del satellite, lasciando spazio a correnti umidi e meridionali che portano un aumento della nubosità. Dunque per il pomeriggio sera di oggi venerdì 17 marzo, nubi irregolari con addensamenti consistenti soprattutto nell'interno del centro Levante, con possibili isolate e piovigini la sera, venti da sud-est a Levante, da nord-est a Ponente deboli e moderati, mare poco mosso in aumento fino a mosso a Ponente, molto mosso a Levante, temperature in diminuzione. Domani sabato 18 marzo continua l'afflusso di aria umida dal mare, nubi basse sui versanti marittimi del centro Levante, dove il sole comparirà solo a sprazio e dove non mancheranno deboli piogge sparse fino alle ore centrali, cielo soleggiato sui versanti padani e sull'imperiese, venti da sud-est a Levante, da nord-est a Ponente deboli e moderati, mare mosso a Ponente molto mosso a Levante, temperature minime in aumento, temperature massime invece previste in diminuzione. Chiudiamo con le previsioni per domenica, 19 marzo, scenario meteorologico invariato, nubi diffuse e schiarite sulle coste del centro Levante, più ampie nel pomeriggio. Cielo soleggiato invece a Ponente e sui versanti padani, venti saranno deboli, meridionali, localmente si avranno anche calme di vento, mare in calo fino a poco o localmente mosso a Levante. La sera temperature minime stazionarie massime in aumento. E tutto, gli aggiornamenti li trovate sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina Facebook di Arpal. Buon fine settimana a tutti! Grazie a tutti!